buonasera a tutti amici ed amiche dal vostro enrico caffarelli live reaction roma fiorentina una gara importantissima ma proprio tanto 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 speriamo bene per la mia roma bella roma mia che stasera non mi deluda e faccia il suo dovere vediamo un po dai ma chi stasera ma chi stasera poi lukaku subito che azione continua fenomeni due fenomeni sono rai e roma 1 a 0 1 a 0 subito al quinto minuto che spettacolo ragazzi che spettacolo l'ha spaccata la palla big rom di testa vai big rom vai bello mio che bello guarda che gollo bello dai roma dai 1 a 0 forza forza dai 10 secondi alla fine del primo tempo fischia ma tu manca un sacco di recupero ma fischia adesso si finito finito in primo tempo roma 1 fiorentina 0 stanno venendo avanti i viola anche se noi abbiamo perso di bala infortunato al 25esimo o poco più purtroppo senza di bala non è la stessa roma però speriamo bene nel secondo tempo rosso 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 ma questo è matto ma che fallo è ma che fallo è ma si stanno a scherzare Ma come fai a dare il secondo giallo? Allora, cacciaglia pure a questo, va! Cacciaglia pure a questo, va, rosso, pure a questo! C'è, è stato del rosso il Zaleschi, oh! Ma che ha fatto? N'ha fatto niente il Zaleschi, oh! Mamma mia, Roma in dieci, te pareva? Te pareva? Ecco, te pareva, porco giudo, porco giudo! Subito ha segnato, chi ha segnato? Te pareva? Ha pareggiato subito, oh! Roma in dieci, ha pareggiato subito la Fiorentina, oh! Mannaggia giudo, oh! Porca miseria, ladra! Subito ha segnato! Porco giudascio! Porco giudascio! Guarda questo, va! Ma che è segnato? Ma chi è segnato? Martino e Squarta! Porca miseria! Porca miseria! Porca miseria, Martino e Squarta! Contro piedi, porco giudascio, riprendilo! 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 Mi sono detto Parenza, non ci siamo muniti! Oddio, Lugano, che entrata! Che vuoi? Chi è? Rosso! Ma tu sei scemo! Ma quale è rosso? Ma quale è rosso? Ma che è stata rubata proprio? Ma fate proprio schifo! Ma come fai da rosso? Come fai da rosso? Questo è giallo, no rosso? Ma che farlo da rosso? Ma che fai da rosso? Ma che fai da rosso? Fate proprio schifo! Ma che fate comprare questa partita? Ma che è rosso? Ma quale è rosso? Per il numero 90 da Roma, li vediamo questo intervento Su la gamba sinistra avanti Luca Luca Manelli, Luca! Si, è rosso che dal campo ci sta Il mio sinistro di... Ah no però... Ho visto bene sì Ho visto bene sì Ho visto bene sì, dai Ho visto bene sì, è rosso Ho visto bene rosso, è rosso È troppo... Troppo brutto l'intervento Momenti che spezzavano la Bibbia No, no, no Era rosso, dai Che volete spellere anche Mancini? Volete spellere anche Mancini? planeti Mannaggia la miseria che addio Oddio ondio oddio 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 meu oddio oddio mio oddio oddio mio la grinta il carattere l'abbiamo portato a casa a questo punto fondamentale per la Champions se rimanevamo 11 contro 11 non lo so come andava a finire adesso sta espellendo tutti l'arbitro, spelli pure il pubblico pure il pubblico